però voi sapete che sono i ragazzi che mi adesso faccio solo lì capito? è troppo facile era bello il quale lì salutiamolo lì salutiamo lì lì l'amalescente lì lì dai che fra poco tornerai a correre piano però piano l'umachino quelle maratone dell'umachina allora abbiamo sentito All Around the World e abbiamo fatto un gioco bellissimo abbiamo vendato shorty perché adesso sarà in punizione fino all'anno nuovo e gli abbiamo detto col dito fai su un punto del mondo dove ti piacerebbe andare oltre Pupa ed è venuto con l'Islanda l'Islanda che è un posto dove sono i pochi quanti saranno in Islanda? tutta la popolazione isola e lo dico subito una ventina cioè una nazione nuova sono talmente pochi quanti sono gli islandesi? gli islandesi sono 102.000 no scusa 330.000 più o meno 300 come a paderno di un diametro no di meno tutta la nazione allora allora è subito allora è subito Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.